signore e signori benvenuti e un cordiale buongiorno da parte del tg sherwood io sono luca io sono rossella come avete notato sono cambiati conduttori ringraziamo davide antonio i vecchi conduttori che torneranno qui fra qualche puntata colgo l'occasione anche per ringraziare tutto lo studio tecnico che ci permette di realizzare questo magnifico programma di informazione e cultura è stata una settimana abbastanza complicata e lo sarà anche successivamente infatti abbiamo l'appuntamento dell'otto dicembre che sarà molto pieno sia dal punto di vista internazionale che nazionale ma partiamo dalla cronaca di questi giorni degli avvenimenti politici e di mobilitazione arrivando in francia no dai nostri cugini d'oltrealpe e che cosa sta avvenendo dal 17 novembre ci sono delle continue mobilitazioni da parte di quella moltitudine che sono stati rinominati i gilet gialli semplicemente perché indossano questo gilet che ogni automobilista si ritrova ad avere nel bagagliaio infatti questa mobilitazione nasce proprio dagli automobilisti che manifestano contro l'aumento della tassa sul gasolio la cosiddetta carbon tax in queste settimane le mobilitazioni e le rivendicazioni si sono nutrite anche di nuovi aspetti non a caso si sono associate anche le rivendicazioni studentesche e del movimento antifascista sono scesi in piazza anche gli studenti in questi giorni stanno occupando i licei gli operai invece stanno effettuando dei picchetti dinanzi le fabbriche e quindi è una rivendicazione anche molto colorita le volte pirotecniche ricordiamo infatti anche che sono scesi in piazza con una riproduzione di una ghigliottina è un'asticella dello scontro molto molto elevata si contano centinaia e centinaia di arresti molti danni tra cui anche un palazzo incendiato purtroppo si contano anche dei morti ma dall'altro lato anche lo stato sta rispondendo in maniera molto dura la polizia utilizza le granate e l'asticella dello scontro quindi è molto alta per questi motivi Macron è sceso a una sorta di compromesso infatti ha annunciato proprio in queste ore mentre stiamo girando di voler sospendere la carbon tax per almeno sei mesi tra l'altro ha anche annunciato di voler reintrodurre la legge sulla patrimoniale sui patrimoni che lui stesso aveva eliminato subito dopo la sua eliminazione da presidente ma ora vediamo il contributo girato dal nostro Antonio Pio il nostro direttore di Global Project direttamente da Parigi sabato primo dicembre come redazione di Global Project siamo stati a Parigi ci torneremo anche sabato prossimo perché abbiamo la necessità di continuare a inchiestare di continuare ad approfondire il movimento dei gile gialli un movimento che lo abbiamo detto tante volte nel corso dei tg delle settimane passate si sta dando in una forma inedita in una forma non lineare sia per quel che riguarda la composizione tecnica e sociale delle lotte sia per quel che riguarda la composizione politica abbiamo sottolineato più volte le contraddizioni insite a questo movimento sicuramente la giornata di sabato ha prodotto innanzitutto una potenza insurrezionale incredibile tant'è vero che ha costretto il governo Macron alla resa sulla tassa legata ai carburanti e una potenza insurrezionale che si è sprigionata nel cuore della metropoli a partire dalla mattina con l'appuntamento che era stato dato già a partire dalle otto dai gile gialli sotto l'arco di trionfo che ricordo era una zona completamente interdetta nel pomeriggio alle 14 e 30 c'era l'appello che ha suscitato tanta discussione all'interno dei movimenti francesi lanciato dal comitè Adama che è un comitato di Bagnésar che lotta soprattutto contro le discriminazioni contro le violenze poliziesche e contro il colonialismo interno che esiste all'interno della società francese a questo appello hanno partecipato tantissime realtà dei movimenti che da tre anni stanno hanno aperto comunque un ciclo lungo di rottura un ciclo lungo di lotte sociali quindi realtà di movimento singolarità il corteo è partito con l'obiettivo di raggiungere i gile gialli la polizia ha sbarrato l'ingresso a tutte le vie che potessero collegare questi due queste due piazze quindi ha impedito qualsiasi forma di giuntura ma nonostante questo si è data e sono date forme di conflitto veramente grandi appunto all'interno del nel cuore della metropoli quello che succederà lo vedremo nei prossimi nei prossimi giorni proprio perché questo movimento si dà in un divenire non è sicuramente lineare la lettura che ne possiamo fare sabato 8 c'è stato un appello da parte degli organizzatori della marcia per il clima che ricordiamo verrà fatta a parigi anzi parte da parigi e verrà fatta in tante altre città della francia del mondo anche a padova un appello ai gile di confluire nella manifestazione per la giustizia climatica questo sicuramente approfondisce alcune contraddizioni che erano insite all'interno dei dei gile gialli ma potrebbe anche ampliare ulteriormente un fronte di lotta creare ulteriori sinergie per cui la situazione è continuamente in divenire vedremo anche quale sarà la reazione dei gile alla notizia della resa che c'è stata all'interno del governo sulla carbon tax una notizia di questi giorni e anche l'occupazione di diversi licei in tutta in tutta la Francia e soprattutto tanti licei parigini sono occupati quindi c'è un ulteriore fronte di lotta che si apre e continueremo ad inchiestare tutto questo continueremo a stare dentro proprio con la logica dell'inchiesta a questo movimento questo era il contributo di antonio pio direttore di global che tornerà a parigi anche questo sabato per seguire sia la manifestazione dei gile gialli annunciata dai social benché vietata dallo stato francese sia la manifestazione sul clima che tratteremo in seguito ma intanto volevamo parlarvi del g20 che si è svolto in argentina tra i principali 20 paesi industrializzati che ha visto la partecipazione dei principali primi ministri dei ministri dell'economia più tutta una serie di elementi finanziari come il fondo monetario internazionale via dicendo cosa cosa ne esce da questo g20 di buenos aires intanto trump esulta o almeno così ha detto su twitter perché porta a casa nessuna nessun vincolo sui dazi benché abbia subito dopo annunciato che toglierà i dazi alla cina a partire dal primo di gennaio ma se sparta piange a te ne non ride infatti macron è dovuto fuggire letteralmente dal g20 per regarsi a parigi per seguire i gile gialli e anche se simpaticamente ad accoglierlo a buenos aires non c'era nessuno tranne un gile giallo è un'immagine molto simpatica e vi consiglio di cercare sull'internet un'altra che ne esce un po sconfitta è teresa may la quale è impiantata sulla brexit e non si dedica praticamente a nessun altro argomento questo è stato il suo punto forte sul g20 il suo punto di discorso come gestire l'uscita inglese dall'europa putin putin è il vero vincitore di questo g20 infatti putin non solo non ha avuto sanzioni da parte dell'europa o per meglio dire dalla francia e dalla germania per quello che è la guerra europea perché ricordiamo che in crimea si sta svolgendo una vera e propria guerra civile c'è stato un escalation militare con numerosi arresti in più ha portato a casa un accordo sul nucleare con la partnership argentina quindi l'argentina cornerà a produrre energia nucleare e tornerà a produrla tramite i russi ma cri il presidente argentino è quello che insomma ha avuto più problemi di tutti infatti per contenere la folla la contromanifestazione ha proclamato che il primo dicembre sarebbe stata giornata di festa nazionale invitando gli abitanti di buenos aires ad andare in ferie in più ha spostato la partita del secolo della coppa libertadores il che ha provocato numerosi scontri per le strade inoltre qual è stata la contromanifestazione a buenos aires sono scese in piazza 50.000 persone guidate dal movimento non una di meno che in argentina proprio le sue radici per protestare contro la legge abortista che è stata fatta in argentina 50.000 persone che rappresentavano movimenti transfeministi movimenti sindacali gruppi collettivi studenteschi gruppi universitari e tutto quello che è l'area dei movimenti sociali è un forum il contro forum è andato molto meglio di quello del g20 di amburgo molte tematiche sono state trattate molti tavoli di lavoro si sono svolti anche se ci troviamo in una fase in cui l'argentina non è più quella dei primi g20 abbiamo bolsonero in brasile abbiamo macri in argentina il venezuela è in una crisi profonda benché tramite le proteste argentine del g20 fu stoppata l'annessione di bush del sud america un'annessione non violenta ma un tentativo imperialista americano questo g20 ha portato alla luce un numerose rivendicazioni che vengono praticate e sono quotidiane nell'ambiente sud americano e che anche oggi noi riportiamo e rivendichiamo anche qui nei movimenti europei sono stati schierati per contenere queste 50.000 persone 24.000 poliziotti per accedere al centro di buenos aires serviva un pass e l'area è stata completamente militarizzata il g20 si rivela un inutile carrozzone praticato dai principali 20 paesi imperialisti e neoliberisti il movimento di protesta rivendica delle situazioni sempre più forti e sempre più potenti cosa succederà non ve lo sappiamo dire adesso ma noi di certo lo seguiremo e ritorniamo all'appuntamento di questo fine settimana l'otto dicembre in italia è stato convocato la manifestazione notav a torino successivamente l'assemblea che li ha visti protagonisti il 17 novembre a venaus all'interno del quale vi erano tutti i movimenti ambientalisti e quant'altro che manifestano nei territori italiani contro le grandi opere inutili il movimento notav scende in piazza a torino in una che è una data storica e da oltre 30 anni infatti il movimento si batte contro la costruzione della linea alta velocità tra che collega torino a lione e il governo giallo verde infatti ha avuto delle novità riguardo la eventuale costruzione della linea alta velocità andando anche contro per quanto riguarda il movimento 5 stelle le promesse elettorali oltre che a torino ci saranno anche altre piazze tra cui quella niscemi in sicilia in cui si manifesterà contro la costruzione del muos che sono le basi satellitari usa e oltre che in altre piazze italiane le rivendicazioni dei movimenti sono contro le grandi opere inutili e si ritroveranno poi nella manifestazione nazionale a roma il 23 marzo e ci si pone l'attenzione sul distogliere questi soldi da queste grandi opere dannose e riportarli invece a quello che è un serio riassetto drogeologico del territorio perché impensabile piangere dei morti se piove oltre che piangere morti nel caso in cui vi siano dei crolli strutturali dei ponti come abbiamo visto quest'estate per il crollo del ponte di genova invitiamo a leggere anche l'appello di vming sulla pagina ufficiale del movimento notav che vuole mettere un po in crisi quelli che sono i luoghi comuni contro la tav che è costosa che ormai è stata avviata e quindi non si può fermare che se no resteremo isolati è molto interessante ed è molto specifico soprattutto perché realizzato in collaborazione col movimento e con persone che seguono questa tematica ormai da quando è iniziata cioè dal 1991 già si parlava della torino lione che ormai non esisterà più perché realmente questa lunga ferrovia non andrà mai da torino a lione restando sull'otto dicembre volevamo invitare tutti alla manifestazione che si svolgerà a padova che è una delle principali manifestazioni sul siamo ancora in tempo questa è la traduzione italiana dell'appello francese che si svolgerà in 175 città del mondo sono presenti la maggior parte delle capitali è presente new york hamburgo copenhagen è presente parigi che è la sede della manifestazione principale dove sono attese all'incirca 100 mila persone sarà ad alessandria d'egitto sarà hong kong e sarà anche qui a padova la manifestazione inizierà in realtà le dieci e mezza alla sala diego valeri in via valeri con un incontro un'assemblea aperta a tutti aperta tutte le persone tutte le realtà e tutti gli attivisti che vogliono partecipare per realizzare insieme un fronte comune di lotte per il veneto per le lotte ambientali del veneto e proseguirà alle 14 30 con l'assemblamento in piazzale stazione per poi muoversi all'interno col corteo all'interno della città di padova allora e l'iniziativa come abbiamo detto fa parte di una serie di iniziative ci sarà quella un insalento per il movimento notav ce ne saranno alcune sul centro italia per i movimenti dei terremotati ricordiamo che l'aquila è ancora come al momento del crollo il centro non è abitabile perché ve ne stiamo parlando perché l'ipcc il panel intergovernamentale ci dice che abbiamo dieci anni all'incirca per non far aumentare la temperatura di un grado e mezzo altrimenti semplicemente siamo morti la terra diventerà un habitat in ospitale non so se avete presente o l'antico testamento l'apocalisse di giovanni fuoco che cade terremoti locuste carestia morte malattia che cavalcano più o meno lo scenario è quello ci avete detto per un trentennio che eravamo delle cassandri che erano nostre profezie sterili che avreste fatto qualcosa che ce l'avremmo fatta ci avrebbe pensato la scienza ecco non è successo oggi siamo al limite oggi se non si sceglie di combattere per l'ambiente vuol dire destinare la razza umana all'estinzione con le anche buona parte dei mammiferi a quanto pare il polo si sta sciogliendo stiamo distruggendo le foreste un ottimo esempio può essere quello che è successo in trentino nelle ultime settimane c'è stata una frana sono morti milioni di alberi ma noi continuiamo comunque estrarre a produrre a creare legname qual è il problema il problema è l'uomo è il tipo di scelta il tipo di economia che ha fatto l'uomo il problema il capitalismo il problema e lo specismo percepire la natura mettendo l'uomo come superiore e la natura come inferiore tutto questo ha radici profondissime radici cattoliche a radici che non sto neanche qui potete trovare riferimenti molto più validi dei miei ci sono ottimi libri che vi consigliamo basta seguire quello che vi abbiamo detto vi invitiamo ad esserci questo sabato 8 dicembre alle 14 e 30 in piazzale stazione perché adesso siamo ancora in tempo per salvare il pianeta tra solo i 12 anni nel 2030 la temperatura terrestre aumenterà di più di 1,5 gradi questa è l'allerta segnalata dal gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico ipcc che cosa significa in termini pratici una cosa del genere innalzamento del livello del mare acidificazione degli oceani cambio dei regimi pluviometrici aumento di co2 nell'atmosfera inondazioni perdita del 99 per cento delle barriere coralline stiamo vivendo la fase più drammatica dell'antropocene un'era geologica in cui sono attribuite all'essere umano e alle sue attività le principali modifiche strutturali territoriali e climatiche l'impatto delle attività umane ha già prodotto l'aumento di 0,85 gradi di temperatura i cambiamenti climatici in atto sono solo la conseguenza più immediata ma cosa è stato fatto fino ad oggi il più importante accordo politico sul cambiamento climatico è stato stipulato a parigi nel 2015 dopo la conferenza internazionale cop 21 195 paesi hanno firmato un patto non vincolante per contenere il climate change e ridurre le emissioni di anidride carbonica esatto non vincolante in poche parole cop 21 è stata una farsa ma possiamo ancora fare qualcosa ovviamente l'otto dicembre 2018 ci sarà una marcia mondiale per il clima a parigi a new york da copenaghen a padova mentre governi imprese ong scienziati saranno alla copp 24 a katowis in polonia cittadini e cittadini di tutto il mondo saranno in marcia per chiedere un cambiamento sostanziale di politiche di modelli di sviluppo per dare una chance al pianeta finché sia in tempo unisciti a noi a padova in italia in e veniamo ora alla legge salvini fa un po strano chiamarla legge dopo mesi in cui abbiamo discusso del decreto legge non a caso ad inizio di questa settimana il presidente della repubblica mattarella ha purtroppo firmato e quindi promulgato quello che era il decreto legge salvini il titolo lo conosciamo bene è un binomio abbastanza strano da accostare un po razzista si chiama legge immigrazione e sicurezza ma quali sono le ricadute successive all'applicazione di tale legge dal lato dell'immigrazione abbiamo visto nelle cronere di questi ultimi giorni che tanti migranti centinaia e centinaia sono stati sgombrati dai sistemi dell'accoglienza dai casse dagli sprar abbiamo il caso emblematico di crotone in cui centinaia di migranti tra cui anche donne incinte e minori alcuni anche piccolissimi neonati sono stati sgombrati dallo sprar portati all'interno di un pullman fino alla stazione affinché andassero via per questo caso è stata anche segnalata all'attenzione del garante dei minori oltre che ci sono delle iniziative per portare il caso all'ONU ci sono infatti delle violazioni assurde dei diritti umani stessa e medesima tattica è stata attuata a caserta e anche a catania centinaia e centinaia di migranti sono fuori per le strade senza un tetto dove vivere e se ci spostiamo dall'altro lato del binomio sulla sicurezza anche qui abbiamo delle ricadute abbastanza pressanti infatti la legge ha reintrodotto il reato di blocco stradale quel reato che fu già depenalizzato nel 1999 quindi siamo ritornati abbastanza indietro questo infatti è una legge che ottiene vigore ed è nata nel 1948 si pensa no pensiamo praticamente che questo reato viene sanzionato da 2 a 12 anni nemmeno il reato di stupro né tantomeno quello di sequestro di persona arriva a una tale pena e la prima ricaduta si è avuta a Bari dove dei compagni manifestavano proprio contro l'applicazione di questo decreto e a 24 ore dalla manifestazione si sono ritrovati con l'avviso di garanzia da parte della Digos quindi a loro va tutta la nostra solidarietà e quel che ci aspettiamo sono sicuramente dei tempi durissimi per tutti i movimenti sociali al di là di questo reato vi è anche quella di invasioni di terreni e di edifici quindi ci sarà una ricaduta assurda per tutti i movimenti sociali che operano per i blocchi per i blocchi sfratti e quant'altro è interessante notare come tutti i natali è uscita la polemica dei presepi è interessante notare come chi si rifà in italia almeno a livello politico mainstream alla parte cattolica la parte cristiana poi promulga leggi che di cristiano hanno veramente poco se non nulla cosa che è stata segnalata anche dalla cei questo mi porta ad essere nell'assurda posizione di avere la stessa posizione della cei è surreale infatti mi era venuto in mente che forse non abbiamo capito salvini gli piace così tanto il presepe che vuole rendere questo paese un enorme presepe tranne che lui ha pescato la parte di erode in questo bellissimo presepe vivente bellissimo terrificante allucinante bel tg sherwood forse oggi è tutto io sono luca ringrazio ancora tutto lo studio tecnico io sono rossella e ci vediamo al prossimo giovedì ciao 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 ciao